Si inizia con la raccolta firme per la legge di iniziativa popolare promossa dal Partito Democratico Lombardo per cambiare la sanità regionale. Le prime due firme sono state quelle del capogruppo alpirellone Pierfrancesco Maiorino e del consigliere democratico Carlo Borghetti. L'obiettivo è riorganizzare il servizio sociosanitario regionale pubblico che sia efficiente ed universalistico. In questo momento ai cittadini lombardi si dice una cosa sola, volete farvi curare? Pagate. Aumentano in maniera molto significativa le liste d'attesa in sanità e la giunta Fontana è totalmente immobile, sembra paralizzata. La sanità lombarda è per noi da rilanciare e per questo presentiamo una legge di iniziativa popolare che rimette al centro il tema della medicina territoriale. Noi vogliamo più servizi sul territorio, riafferma alcuni principi essenziali come quelli riguardanti la necessità di avere servizi sociali, sociosanitari forti ed efficaci e poi riparte da un principio, da un concetto. La sanità deve essere governata nel nome dell'interesse pubblico. Va cancellata l'equivalenza tra pubblico e privato perché il pubblico deve decidere dove, quando e come deve intervenire la sanità privata. Quattro sono i principi della nuova legge di iniziativa popolare, tutti volti a garantire la salute e il diritto a farsi curare, in una società in cui si assiste ad un allungamento della vita ma in contemporanea ad un aumento delle patologie e delle cronicità. La proposta di legge di iniziativa popolare sulla quale raccoglieremo le firme in tutto il territorio regionale è basata su quattro principi fondamentali. L'universalità dell'accesso ai servizi, cioè che tutti hanno diritto ad avere una risposta di salute in questa regione. La centralità della prevenzione, che è stata dimenticata da Regione Lombardia ed è fondamentale per evitare di ammalarsi. La priorità dei servizi territoriali, che dalla pandemia in poi abbiamo scoperto essere un punto più nero di questa sanità lombarda. Più servizi sul territorio per fare anche più riabilitazione. E infine, ultimo ma non ultimo, il governo pubblico degli erogatori, sia pubblici che privati, ma soprattutto privati perché devono concorrere di più agli obiettivi di salute pubblica, perché tutti i lombardi devono potersi curare, indipendentemente dal portafoglio che hanno in tasca.